Lance Ragusa, preoccupata per il mancato completamento dell'autostata Rosolini-Modica, interroga i candidati all'elezione del 5 novembre per sapere quale è la loro posizione in merito, ovvero cosa ne pensano del sostanziale fermo dei lavori, delle vicissitudini che ne hanno caratterizzato la gestione dopo del consorzio autostata siciliana negli ultimi anni e come risolvere i nodi irrisolti per proseguire a pieno regime la costruzione dei lotti fino a Modica. Le notizie che ci giungono rilevano i vertici del Lance, ma sono per nulla confortanti e le protrasse di questo stato di cose si riverserà necessariamente sulla dilatazione dei tempi di costruzione, in questo modo rischiando di perdere i finanziamenti europei e poi ritrovandosi di fronte all'ennesima incompiuta oltre ad un territorio devastato e deturpato. Ecco perché in piena campagna elettorale lancia ragusa che da tutti i candidati alla presenza della regione di occuparsi davvero di questioni concrete, impegnandosi a capire come intervenire per evitare che il contenzioso in atto con l'impresa executrice produca la più grande incompiuta siciliana, oltre alla perdita dei fondi europei a base del finanziamento.